Ok, adesso vi facciamo vedere come noi americani odiamo la pizza online Allora, si fa per delivery Delivery, go! Pago in cash Controlla l'indirizzo Mirko, è tutto sbagliato, era ancora quello vecchio L'hai messo quello nuovo? Oh, l'ordinata! No, non so Allora, mettiamo il cellulare Cioè, quello è il nostro cellulare Ma cos'è quello che vuoi fare? Cosa? Lo stesso Ok Dobbiamo odiare la pizza allora Allora, vai Create your own Lì, bravo Allora, metta a te e metta a me, ok? Ok, quindi medium, almeno large Large, che macco Large, quindi... Allora, io voglio prosciutto No, quello lì è tutta la pizza Quindi vai sotto Metà E voglio... Anciovis Ok, la tua side è l'ultima di manciovis No, non lo voglio, è anciovis Cos'è l'anciovis Voglio i mushroom E poi io voglio... Solamente prosciutto Cos'altro vuoi oltre i funghi? Vuoi altre cose, dove si mette? Aggiungi, vai di nuovo lì Vai, lì Sulla tua side, sui mushroom Esatto Lì E aggiungi cos'altro vuoi Lei vuoi qualcosa altro? Anche io vorrei... Ti piacciono poi le cipolle Dimmi cos'altro vuoi Ehm... B... Banana te... Banana te... Banana te... Sono quelli piccanti Che cosa vuoi? Le cipolle Chi vuole le cipolle? Perché se le vuoi anche te le mettiamo sotto la pizza Oh no? E' uguale Ok Ehm... Mettiamo sotto la pizza Quindi togli da lì Ok Che vuoi qualcosa di particolare? Ehm... Voglio il... Ok... No, nothing else Io voglio il salame Ok Italian salame Ok Poi vai giù Vai app to order Lì No, lì Che poi voglio la disco Voglio la... Vai... Vai... No, no, no Ah no, no Check out No, no Ok E adesso vieni Ma io... No, no, no Vieni adesso vieni Io voglio il salame Ok vai giù Sì Eccole qua Aspetta No Ah no, allora aspetta Il team's shopping Sì che qua dovrei aprire Ok Ti va giù Ti va giù Eccomi qui Sì Penso Tu cosa vuoi? Da ci danno il garlic Comunque Ci sti... Ah, ci sti dopo un sacco Voglio... Cosa vuoi per di fare? Ehm... Voglio... Blue cheese Quanti ne vuoi? Uno E quante ne hai presi? Due Allora ne prendo anche io due Zero due No, due No, no, no Metti zero due Che poi qui c'è non lo venti No, hai due due No, vedi se tu vai lì per esempio lì E scrivi due Ma non capisco Ecco Quindi vediamo E' tuo o due Ok, check out Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Allora Ci abbiamo una Large pizza Con tre toppings E' un range di... Che significa tre ingredienti? Cipolla, prosciutto Cipolla, prosciutto Cipolla, vino, funghi 21 dollari 21 Quindi... Coca Cola ci serve? No No, abbiamo da... Abbiamo da bere Stiamo già benvenuti Cash Cash Vogliamo il cash Do we order now? Is it that magic? Taaack Taaack Ok Non dobbiamo printare per stavolta No Ok Sì Lascia a prendere No Lascia a prendere Tanto ci serve Ok Ok Adesso arriverà quello lì Delivery Pizza E ve lo filmiamo Ok Ciao Facciamo salutare Facciamo dire ciao Ok Ciao Ciao Eccoci Arrivata Pizza Delivery Vediamo Oh ci sono le salsine Salsine Oddio la bocca Oh no Che spreco E' caduta la vodka Che spreco Allora c'è cheese C'è quello C'è la pizza Il cheese Wow Ciao Come mai Ho una domanda Scusa Come mai hai il mio prosciutto Tutto bruciato No quello è il mio Quello è il salame Io lo voglio mangiare anche Ah Mi hai mangiato il mio salame Buono Mi hai mangiato tutto il mio salame Gravoli Allora io tiro questo E io mangio questo Ok No Quello è il mio salame In cambio voglio questa Forse Buoni Ciao Ok allora adesso Mangiamo la pizza E guardiamo lo spenn Bello Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mangia dai Mangia Come il fatto? Ah lo conosco più troppo bene E' stato accappato